Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di metri in calabria.it Sarà un fine settimana all'insegno della variabilità, con una debole stabilità e temperatura leggermente al di sotto delle medie del periodo. Il calo della temperatura si avvertirà maggiormente nella giornata di domenica. Il tutto causato da un'area di bassa pressione attualmente presente sul nord Italia, ma in veloce evoluzione verso i Balcani. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato cieli parzialmente nuvolosi sui versanti terrenici, con possibili deboli piogge. Sui versanti ionici cieli per lo più poco nuvolosi, temperature in calo di alcuni gradi. Domenica al mattino cieli regolarmente nuvolosi sui versanti terrenici, con possibili piogge. Sui versanti ionici cieli per lo più poco nuvolosi. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità, con possibili piogge sulle aree montuose, in estensione nelle zone limitrofe. Temperature in ulteriore calo, che risulteranno leggermente al di sotto delle medie del periodo. E adesso il concetto sguardo a mari e venti. Sabato mosso il martirreno con venti moderati dai quadranti occidentali. L'olione poco mosso con venti deboli di direzione occidentale. Domenica molto mosso il martirreno con venti moderati dai quadranti occidentali. Sull'olione o mari poco mossi con debole ventilazioni di direzione occidentale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meto in Calabria. Per la puntata di oggi è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.